E' o non è pazzo l'uomo che in seguito ad una caduta da cavallo vive e si comporta come Enrico IV. L'enigma, come sa chi pratica il teatro pirandelliano, è di facile soluzione. Il protagonista si nasconde dietro la follia e chissà forse architetta una vendetta, servita glaciale più che fredda nei confronti di chi lo tradì sentimentalmente ma non solo. A cent'anni dal debutto Enrico IV torna sui palcoscenici italiani in una versione firmata Luca De Fusco coprodotta dal teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e che resterà a Rossetti fino a domenica. Nel ruolo eponimo, che curiosamente non ha nome, uno straordinario Erospagni gioca una volta di più con i timbri di una voce leggendaria che gli consentono di esprimere rabbia e disperazione a volte senza nemmeno muoversi. Non gli è da meno una compagnia di primordine, citeremo i soli Anita Bartolucci, Paolo Serra e Valerio Santoro, laddove le scene e i costumi di Marta Crisolini Malatesta e le luci di Gigi Saccomandi instradano lo spettacolo sui binari di una tradizione accennata quanto basta. C'è però un problema, piccolo magari per alcuni, notevole per altri, ovvero la riduzione del testo a una durata che non supera gli 80 minuti, il che ha comportato drastici tagli, tagli che paradossalmente risultano ininfluenti per chi si accosta al dramma per la prima volta, che però deve accettare un disvelamento della verità troppo semplice. Chi invece conosce già il materiale si trova di fronte ad un bignami, un ottimo bignami ma pur sempre un bignami. Insomma, non siamo mai contenti noi recensori, il che però è poca cosa rispetto agli applausi che hanno salutato la prima, cui ci siamo volentieri aggiunti in un clima da giorno di San Crispino.